Il primo anno è poco e banale, quasi tutto sembra provocare per emoti concettuali. Un esempio di un campo vettoriale irrotazionale, irrotazionale, cioè non rotazionale, tra amici conservativo, è un campo uniforme. Quindi immaginate che il campo vettoriale sia un sacco di frecce, tutte nello stesso modo e tutta nella stessa direzione. E' un esempio della forza peso, quindi immaginate di avere un sacco di frecce arracioni che puntano verso il basso, perchè ho messo la condizione x, quindi in ogni punto della lavagna avete esattamente lo stesso vettore, stessa freccia rosa dappertutto. Che colore è questo? D'accordo? E' un campo vettoriale uniforme, in ogni punto spazio esattamente lo stesso vettore. Com'è la forza peso? Qua ho citato Eg, allora questa è la notazione che si trova spesso nei libri, che vuol dire per esempio in latino. Qualcuno ha fatto in latino? Si. Come si dice per esempio in latino? Ok. Invece questo, shh, il des vuol dire quindi, o per esempio, no non è per esempio, vuol dire quindi, questo Eg vuol dire per esempio, shh. Quindi, shh, silenzio dai. Quindi quello che sto cercando di convincervi è che un campo di forze come la forza peso è un campo conservativo, e la parola conservativo è proprio appropriato, perchè è un campo di forze. Allora, immaginate il punto A e il punto B, hanno lo stesso Y ma diversi X, ok? Quindi immaginate la curva che va da questo punto A a questo punto B, immaginate la curva che va dritta, la curva blu, ok? Qual è l'integrale curvilineo da A a B lungo quella curva blu? La scrivete così, in ultima analisi è una sommatoria, e dovrebbe essere triviale questo sì, convincervi che questo è uguale a V0 per XP-XA, perchè per ognuno di questi spostamenti, shh, silenzio, lo spostamento lungo la curva è un cambiamento solo di X, perchè la curva è nella direzione ay costante, quindi ognuno dei delta R, e ognuno dei delta R di questa curva, shh, se no lo do per ovvio e passo ad altro, se non è ovvio state zitti, ognuno dei delta R che è qui la posso scrivere come un delta X nella direzione X, per come è fatta la curva, eh? Questa è la curva che sto scegliendo io, questa è la curva che sto scegliendo io, d'accordo? Quindi io faccio che la sommatoria della VI, cioè il vettore dell'iesima tappa, per delta RI, io posso scrivere così, come la sommatoria di V0 U di X, perchè questo è il vettore dell'iesimo spostamento, perchè il vettore è proprio questo, Poi lo spostamento iesimo, che lungo la curva blu è di questo tipo, è delta XI U di X, lungo la curva blu è proprio quello lo spostamento, Quindi vedete, ovviamente questo, faccio il passaggio, più prolissi, più prolissi così non si può, questo va alla cosa? Questo non dipende certamente dall'indice, quindi questo esce ogni addendo, cioè sto dicendo cosa? Che ogni addendo di questa sommatoria condivide V0 e 1, quindi questo V0 esce dalla sommatoria, E la sommatoria delle delta XI cos'è? E' lo spostamento netto che avete fatto nella direzione X intente, perchè quella è la curva blu che stiamo scegliendo, darà andare da AB, e questo banalmente, trivialmente, direbbe come direbbe un matematico, direbbe che questo è V0 XB-XA, e questo è lo spostamento dalla prima, da A alla prima tappa, più lo spostamento dalla prima tappa alla prima sosta, forse è meglio dirlo, perchè la tappa forse più incorretta è lo spostamento tra una sosta e un'altra. Questa è la lunghezza della iesima tappa, ok? Quindi voi partite da A, andate alla prima sosta, poi dalla prima sosta alla seconda sosta, dalla seconda sosta alla terza sosta, e fate questa somma di quanto siete spostati in ogni tappa e viene fuori questo qui, pensateci, è banale, questo è semplice. Cosa succede se cambio curva? Anzi, facciamo una cosa più semplice, prima di fare una curva complessa. immaginate che il punto A sia questo e il punto B sia questo, quindi condividono lo stesso A, lo stesso X, condividono lo stesso X e solo Y diversi, e io vi chiedo qual è l'integrale curvilineo da A a B lungo questa curva adesso, la curva che so, la curva che so, arancione o no, arancione o no, perché arancione o no, i colore della freccia, lungo questa curva viola, che è una curva, sono punti diversi addirittura, ma sono due punti, non sono i punti di prima. Chiedo come esercizio qual è l'integrale curvilineo di questo? Dovrebbe essere evidente che questo è 0, perché? Perché ognuno degli spostamenti, per esempio questo spostamento qua, questo delta Ri, e questo delta Ri lungo la curva viola, quindi questa è la curva viola, lo spostamento è puramente nella direzione X, quindi nella direzione Y, attenzione, attenzione, quindi questa è la variazione Y a U di Y, e io devo fare il prodotto scalare di questo, tutti i gesti colorati, e quindi io devo fare il prodotto scalare di un vettore che è nella direzione Y, per un vettore che è nella direzione X, quindi è evidente e ho V0 U di X prodotto scalare delta Y di U di Y, è evidente che questo è 0, perché avrò U di X prodotto scalare U di Y, e sono 0 perché ho scelto degli assi ortogonali, quindi spostarmi da questo punto a questo punto l'integrale di un campo vettoriale che punta nella direzione X, 0, banale questo mi pare, allora mettiamo un po' più di fuoco sotto la pentola, questo punto qui a questo punto qui, X, A, B, questo punto a quota X, B, X, A, Y, A, Y, B, allora voglio dimostrarvi che il campo vettoriale in questione è rotazionale, cosa devo fare? Devo dimostrarvi che l'integrale cruvilino non dipende dalla curva, ma dipende solo dal punto di inizio e dal punto di arrivo, quindi da questo punto inizio A al punto B scelgo due curve, completamente diverse, una che fa così, magari lo facciamo in viola, una che scende giù e poi fa così, questa è la curva 1, e un'altra curva che va così e va così, quindi lungo questa sto facendo così, e poi quest'altra sto facendo così, ho perso il colore giusto, tutti questi colori, ok? Sono due curve, una viola e una blu, curva 1 e curva 2, dovrebbe essere evidente spero che danno esattamente lo stesso valore, che valore è? Qual'è l'integrale cruviline? Comune! Quanto è? Qualcuno? E non scrivo più la curva perché è conservativo, qual'è il valore comune? Convincetevi che il valore comune è V0 XB-XA, perché andare da qua, chiamate questo che so, il punto B asterisco, andare da A a B asterisco quant'è? E' V0 XB asterisco meno XA, poi andare da B asterisco a B cos'è? E' 0! Tra l'altro l'X di B è uguale a B asterisco, quindi è evidente che andando lungo la curva viola ottengo quel valore, ed è evidente che perché andando da A a A asterisco, cioè senza cambiare il valore di X, sto facendo un moto che è perpendicolare, quindi io disegno adesso in viola, questo è un esempio della forza, questo è la forza, questo è la forza, è il campo vettoriale, quindi sono frecce gialle tutte verso il basso, è evidente che in questo tragitto qua ho l'ortogonalità tra il vettore spostamento e il vettore in questione, quindi lungo questo tragitto integrale è 0, lungo questo è 0, andare da qua a qua sono concordi, come anche qua, è evidente che il valore dell'andare da A asterisco a B è uguale al valore da A a B asterisco, ok? Quindi un campo vettoriale uniforme è un esempio di campo irrotazionale, cambio le parole e dico che la forza peso è un campo di rotazionale, però visto che è un campo di forze possiamo anche dire quindi questo lo mettiamo tra parentesi e diamo che è conservativo poi penso che l'avete già capito perchè se gli si possono dire quindi questo è interessante, se questa è la forza peso adesso abbiamo la forza peso che è uguale a mg1x e la x è verso il basso e la y è per di qua ecco che è una cosa interessante, se questo è un punto A e questo è un punto B e questo è un punto A asterisco, quindi questo lo chiamiamo, anzi questo lo chiamiamo B asterisco come una notazione da A, questo è il punto B e questo è il punto A In un esercizio lascio cadere la particella dal punto A fermo e lui va giù e passa per la B In un altro esercizio la particella è sempre qua ma gli do una velocità in direzione orizzontale e lui fa una traiettoria del genere, fa una parabola, una va giù dritto, una fa così questa qua, in questo esercizio qui lui ha una velocità iniziale 0, ok? e in questo esercizio qui lui non ha una velocità iniziale 0, ha una velocità iniziale che è qualcosa nella direzione x giusto? se non gli comunicano la velocità lui va giù dritto se gli comunicano la velocità orizzontale lui fa la parabola e dovete anche saper calcolare qual è la parabola, l'abbiamo fatto ma adesso alla domanda qual è la variazione di energia cinetica nel passare dal punto A al punto B o B asterisco la cosa è interessante qual è la variazione di energia cinetica? vedete qua? da A a B cos'è questo? dai usate la formula è mg xb x2-x1 da un punto iniziale a un punto finale questo sarà 2,1 questa è la formula è un'integrale curvilineo della forza peso non dipende dalla curva non dipende dalla curva è conservativo, è irrotazionale dipende solo da x e x è la quota verticale questa è, notate, io lo sto facendo apposta a chiamare questo x e quello y perchè voi siete abituati a chiamare questo x e quello y perchè sto cambiando i nomi? per obbligarvi a pensare qual è la coordinata lungo la quale la forza peso sta agendo? è quella che appare qui giusto? quindi queste sono le differenze di quote lungo la verticale d'accordo? ma cosa abbiamo fatto stamattina? forse sto correndo troppo lasciamo la per un attimo sto correndo troppo poi preferisco mantenere un po' un approccio astratto un po' alla volta prima di fare troppi esercizi teniamolo lì come un esempio quindi se io vi chiedo non lasciamo perdere la variazione dell'energia sinetrica vi chiedo qual è l'integrale curvilineo da A a B lungo questa curva e poi vi chiedo qual è l'integrale curvilineo da A a questo B che ha la stessa quota di questa qua lungo questo e voi dite è uguale e vi chiedo qual è il valore comune? è Mg moltiplicato per il dislivello quello che conta è il dislivello questo punto è proprio sotto questo punto non è proprio sotto è alla mia destra però hanno la stessa quota e quello che conta nel valore dell'integrale curvilineo è la differenza di quota il dislivello quindi l'integrale curvilineo della forza peso andando lungo questa curva o lungo questa curva che hanno lo stesso punto iniziale d'accordo? e hanno punti finali diversi ma i punti finali sono alla stessa quota l'integrale curvilineo è la stessa il valore è lo stesso ed è Mg per il dislivello quindi questo qua la chiamate dislivello dislivello e teniamolo nel taschino lo tiriamo fuori dopo c'è un modo molto più carino e uno potrebbe dire ma professore lei non ha dimostrato a rigore che è irrotazionale perché un campo irrotazionale ma dovrebbe essere per qualsiasi curva devo avere lo stesso valore integrale curvilineo lei l'ha fatto solo per due curve quella viola e quella blu sono solo due e deve convincere deve convincermi che vale per qualsiasi curva avrò lo stesso valore allora come si fa? questo è il punto A mannaggia me che cancello troppo presto perché sono stanco questo è il punto A e questo è il punto B una delle curve era questa qua poi ho un'altra curva completamente pazza questa qua per esempio questa curva qua io la posso approssimare con una spezzata con spostamenti nella direzione x e nella direzione y quindi piuttosto faccio un disegno del genere tiro molte linee movimento di pazienza voi avete il quaderno io no guardate io posso andare da questo punto qua a questo punto qui facendo tante curve di questo tipo andando per esempio un po' così poi così poi così poi così poi magari fino a qua poi qua poi qua poi qua poi magari qui 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 mi sto rompendo i coglioni anche voi AC lo metto un po' più in grassezzo e questo è il punto finale e questo è il punto iniziale se la forza è sempre rivolta in questa direzione e ha sempre lo stesso modulo come è in questo esercizio è evidente che gli spostamenti in orizzontale orizzontale inteso nel senso di là danno sempre contributo nullo giusto? gli unici che danno un contributo diverso da zero sono quelli nella direzione in cui va il campo vettoriale quindi quando mi sposto da qua a qua nella mia famosa sommatoria sommatoria vi protoscalare delta ri la prima tappa è questa ma è uno spostamento orizzontale perpendicolare alla direzione della forza quindi il protoscalare è zero quindi zero poi mi sposto nella direzione della freccia quindi ho un protoscalare positivo poi mi sposto l'orizzontale zero mi sposto indietro ma questo di cui mi sono spostato indietro è esattamente uguale di quanto mi ero spostato in avanti lì quindi questo e questo si cancellano perché questo era positivo come negativo quindi questo è uguale a quello via si cancellano si cancellano prese sicuramente sono diverse da zero ma mi capite? poi ho un valore negativo salgo perché sto salendo quando la freccia è verso il basso il protoscalare è negativo negativo è il valore poi mi sposto il risultale comunque è zero poi mi sposto in avanti quindi questo è diverso da zero negativo questo è allo stesso valore assoluto ma è segno positivo quindi questi due si cancellano questo è zero questo è diverso da zero questo è zero questo è diverso da zero questo è zero questo è diverso da zero quindi ho questo e questo e questo che sono positivi e sta aumentando la somma mi seguite finora? poi ho zero 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 poi ho un altro contributo positivo zero positivo zero positivo zero questo qua e questo qua si compensano giusto? questo è zero e questo e questo si compensano allora quali sono quelli che non si sono compensati? è questo qui questo qui questo qui e basta proprio il dislivello trackate che è la differenza tra la coordinata x di questo e la coordinata x di quello voilà lo vedete? allora qual è l'idea? che se faccio una spezzata pazza questa mi approssima a una curva che faceva una cosa del genere quindi una curva qualsiasi può essere pensata come una spezzata un po' di qua un po' di qua un po' di qua no? voi potete seguire una curva curva come volete pazza come volete potete seguirla con spostamenti orizzontali verticali con precisione arbitraria perché basta che voi facciate una griglia più fitta non vi pare? quindi con questo ragionamento questa curva qui può essere approssimata con precisione arbitraria a una curva fatta di tanti spostamenti verticali e spostamenti orizzontali e alla fine quando calcolate lungo questo verrà fuori lo stesso valore con cui avete ottenuto quello lo stesso valore l'integrale curvilineo lungo la curva curva sarà uguale al valore ottenuto con questa perchè quello che conta sono gli spostamenti orizzontali verticali orizzontali verticali quegli orizzontali danno un bel zero gli spostamenti verticali invece danno contributi positivi quando lo spostamento è nella direzione della freccia e contributi negativi quando sono in direzione opposta e quindi quello che conta è lo spostamento netto in verticale quindi questa formula mi sta dicendo che quello che conta è lo spostamento netto e il dislivello non importa tutti gli spostamenti orizzontali o anche verticali gli orizzontali non danno nessun effetto comunque e gli spostamenti verticali in eccesso non entrano il valore netto è quello che conta d'accordo? meditate su questo eh allora un attimo allora la prima definizione di cos'è un campo irrotazionale conservativo tra virgolette è che l'integrale curvilineo dipenda solo dal punto di inizio e il punto finale e non dal dettaglio della curva questa è la prima cosa quindi cos'è un campo conservativo una prima cosa è dire che l'integrale curvilineo a e b che a priori dipende dalla curva non dipende dalla curva questo è un modo di dire cos'è un campo irrotazionale un altro modo che voglio convincervi che sono equivalenti a e b è che un campo è conservativo conservativo irrotazionale conservativo tra virgolette se presa qualsiasi curva chiusa devo tornare indietro a dire meglio questo cos'è un campo conservativo irrotazionale? presi due punti qualsiasi bisogna dire le cose per bene presi due punti qualsiasi a e b presi due punti qualsiasi a e b l'integrale curvilineo non dipende dalla curva che collega quei due punti ok? quindi questo va corredato presi a e b qualsiasi la parola qualsiasi è veramente importante non basta che troviate due punti speciali che per caso l'integrale curvilineo non dipende dalla curva deve essere presi qualsiasi punto molto importante però qualsiasi analogamente qua disegnato una presa o una curva chiusa quindi un circuito eh circuito qualsiasi qualsiasi se l'offega si è rotta la pelle mi deve aver beccato un nervo perchè ho sentito una scossa presa una curva chiusa shhh qualsiasi è giù scritto così qualsiasi shhh eh attenzione se questo è lo spazio ecco una curva chiusa ecco un'altra ecco un'altra ecco un'altra qualsiasi in posti diversi dello spazio che l'integrale curvilineo lungo la curva qualsiasi chiusa quindi che c'è il cerchietto è uguale a zero questo è un altro modo per caratterizzare per dire cos'è un campo irrotazionale che l'integrale curvilineo lungo una curva chiusa ovvero la circuitazione lungo qualsiasi curva chiusa è zero queste due affermazioni sono equivalenti sono due modi di dire cos'è un campo che lo serve al campo irrotazionale e vorrei convincervi ok? non è difficile siete responsabili di tutto quello che io vi racconto in classe poi le cose che non dimostro magari le posso chiedere se uno lo sa e gli do la lode ma non è che lo punisco se uno lo sa quindi premio per chi sa le cose che magari non scendo in dettaglio allora supponete la 1 e voglio dimostrare la 2 cioè io dimostrerò la loro equivalenza se data la 1 è vera la 2 e data la 2 è vera la 1 cioè se dimostro che la 1 implica la 2 e la 2 implica la 1 allora sto dicendo che la 1 c'è una doppia implicazione sono equivalenti sono la stessa cosa ok? quindi prima supponiamo la 1 e dimostriamo dimostriamo vi do un argomento e se vi convince bene se non vi convince pensateci quindi supponiamo questo prendete arbitrariamente due punti A e B ecco il punto A ecco il punto B ok? supponiamo che il campo elettorale sia irrotazionale quindi potete collegare questi due punti con una curva qualsiasi qualsiasi curva vi darà lo stesso integrale curvilineo questo è un campo irrotazionale questo si chiama integrale curvilineo questo si chiama circolazione quindi presi due punti A e B immaginate una curva qualsiasi eccola qua C1 la chiamate e state andando da A a B perchè vi volete fare l'integrale da A a B lungo la curva C1 e sapete che è irrotazionale il campo quindi se scegliete un'altra curva che colleghi A e B per esempio questa qua chiamiamola già di C2 sapete che avete esattamente lo stesso valore ok? questa è l'ipotesi che abbia esattamente lo stesso valore adesso cosa faccio? questi sono numeri questo può essere 10 questo è 10 10 cosa? dipenderà dalle unità di misura sicuramente questo è uno spostamento questo se è una forza questa roba qua ha la dimensione di una forza per lo spostamento se questo è un campo di velocità avrà le dimensioni diverse ma 0 uguale cioè questo numero qua 100 uguale 100 10 uguale 10 ci sono due nuve ricalcolate due lungo e due curve e sono esattamente lo stesso valore questo numero è un numero reale no? questo è un protoscalare il numero reale questa roba è un numero reale portatelo a sinistra dell'eguaglianza lasciando un bel ciccione 0 sulla destra ho messo la parentesi così vi aiuta a tenere a mente adesso cosa abbiamo appena dimostrato? era triviale poco fa era triviale che andare da A a B lungo una curva è uguale ad andare da B ad A cambiando di segno quindi questo qua sotto la parentesi questo è uguale a meno quindi sotto la parentesi eh attenzione sotto la parentesi è uguale da B ad A in direzione opposta lungo la curva C2 quindi quassù io sto andando da A a B lungo la curva C2 in questo modo ma facendo così sto andando da A a B lungo la curva C2 in questo modo ma B ad A sulla stessa curva ma in direzione opposta sto seguendo la curva in direzione opposta semplicemente ho provato, ho girato gli estremi il punto di partenza diventa il punto d'arrivo diventa il punto di partenza e il punto di partenza diventa il punto d'arrivo posso fare questo a patto di cambiare il verso con cui sto girando lungo la curva quindi se cambio il verso in un'integrale curvilineo cambio il valore dell'integrale curvilineo andare in una direzione ottengo un numero andare in direzione opposta con la stessa curva ottengo il numero di segno opposto è semplice quindi faccio apposta vado da A a B e poi dico quel valore lì è uguale a meno andare da B ad A e lo scrivo così e a questo punto cosa succede? e questo segno meno qui e questo segno meno qui si compensano mi pare quindi questo segno meno e questo segno meno si compensano quindi ho l'integrale da A a B lungo la curva 1 risparmio di scrivermi sempre l'integrando v dai mi capite no? se io scrivo così possiamo risparmiare un po' di gesso? è chiaro lo spirito con cui sto scrivendo? quindi sto andando da A a B lungo la curva 1 e arrivato qua vado da B ad A lungo la curva 2 ma ovviamente girando in verso opposto quindi se volete è una specie di meno C2 e possiamo inventarsi questa notazione quindi cosa sto facendo? sto andando da A e tornando ad A lungo una curva chiusa e questo quanto vale? vale 0 quindi ho appena concluso che questa curva qua chiusa che era arbitraria perchè ho scelto una B a caso e ho tracciato C1 e C2 a caso quindi sono a caso quella curva che ho tracciato quel circuito è disegnato a caso e quindi vale per ogni curva chiusa che l'integrale puvelino vale 0 e lascio a voi dimostrare l'opposto perchè è banale se io immagino la 2 e implico la 1 questa è una zona scelta a caso sull'avagna adesso disegno qua a caso una curva chiusa curva chiusa disegnata liberamente individuo a caso un punto A ecco un altro punto B a caso ok? l'integrale curvilineo nell'ipotesi 2 lungo questa curva qui è 0 ma cos'è un integrale curvilineo? è partire da un punto e cominciare a fare spostamenti allora immagino di andare, tiro la molettina immagino di andare così mi sposto, mi sposto, mi sposto mi sto spostando in senso orario ok? arrivo fino a qua poi questo è il primo pezzo quindi l'integrale curvilineo è fatto di due tappe di due contributi dall'andare da A a B lungo la curva C ok? la curva C poi da B ad A lungo la restante della curva quindi chiamo la prima parte della curva la chiamo 1 questa è la prima parte della curva e questa è la seconda parte della curva la chiamo C2 e so che questo vale 0 perchè per ipotesi questo vale 0 perchè sto immaginando che questa sia ipotesi e voglio convincermi che questo è vero e quindi cosa fate? dite che scrivo qua che l'integrale da A a B lungo la prima parte della curva eccola qua questa è la C1 che andava così e questa è la restante che andava così ho la curva C che è fatta di due pezzi quindi la prima tratta è C1 il resto è C2 quindi da A a B lungo la C1 facciamo tutta la notazione shh porto per esempio questo al di là dello zero shh quindi è meno l'integrale da B ad A lungo la parte A lungo la parte 2 ok? vedete cosa ho fatto? sono andato troppo veloce? vado da A a B lungo il tratto C1 arrivato a B rimango sul restante della curva originale C che è stata chiamata C2 e sto andando in questo modo lungo la C2 e porto questo al di là dello zero quindi questo faccio così a questo punto invoco di nuovo il teorema il teoremino, il lemma, la cazzatina la trivialità che tutti dovrebbero sapere che se inverto il punto di partenza con il punto d'arrivo e in tutto il segno ottengo la stessa cosa quindi questo qua questo invece di girare lungo la C2 così da B ad A inverto questo diventa la A questo diventa la B a patto però di cambiare il segno ed ecco che ho dimostrato che andare da A a B lungo questa curva è assolutamente uguale ad andare da A a B lungo questa curva quindi questo e questo sono equivalenti quindi la 1 implica la 2 e la 2 implica la 1 sono la stessa cosa va bene? c'è qualcuno che non ha capito alzi adesso la mano o mai più nessuno? ah cioè io non l'ho mai capito faccio fisico ma è potrei essere un bravo attore no? questo è tutto ricazzato sto inventando di sana piazza un sacco di robe ecco che sono? ho impostato l'orologio? manca tempo manca tempo c'è un messaggio allora adesso supponiamo shh supponiamo che il campo vettoriale shh che il campo vettoriale sia irrotazionale uno dei due è la stessa cosa sono equivalenti questi due ok? io asserisco che c'è una terza poi ci sarà anche una quarta modi equivalenti di dire la stessa cosa allora tanto per fissare le idee shh supponiamo che il campo vettoriale sia un campo di forza e così usiamo il linguaggio campo conservativo ok? shh campo di forza allora allora io asserisco che un campo è conservativo se come stamattina abbiamo visto se esiste se esiste un campo scalare tale che f è uguale a meno i gradini di u questo è un altro modo cioè in generale un campo vettoriale sarà irrotazionale se esiste un campo scalare che adesso chiamiamo phi tale che la nostra v che è conservativa può essere scritta come il gradiente di phi i fisici amano mettere il segno meno ai matematici non è importante non è il segno meno che fa le cose questo è un altro modo poi c'è un quarto modo che magari vi anticipo solo adesso questo che è quindi questo è che v può essere scritto come il gradiente di un campo phi per il teorema fondamentale dell'analisi io anzi per una estensione una generalizzazione del teorema fondamentale dell'analisi questa scritta qua può essere scritta così che la phi è un integrale curvilineo più una costante e non ho bisogno di mettere la curva anzi facciamo così scusatemi se cambio idea ma è perchè sto cercando di dire qualcosa di semplice per i pochi minuti che rimangono dell'ora presi due punti A e B quindi A e B qua che la phi del punto B meno la phi del punto A è uguale all'integrale curvilineo da A a B lungo una qualsiasi curva C cioè la condizione 3 può essere espressa in due modi se volete questa potrebbe essere la condizione 3 e questa è una 3 asterisco che si dimostra essere equivalente 10 minuti o è finita? anzi usiamo questa numerazione ma meglio così questa è la 3 asterisco quindi la 3 e la 3 asterisco sono due modi di dire la stessa cosa questo è con il linguaggio delle derivate nello stesso spirito della lezione di stamattina questo è con il linguaggio delle derivate questo è con il linguaggio delle derivate questo è con il linguaggio degli integrali però questo non è un integrale ordinario un integrale è più finito e poi c'è un quarto modo che magari vi dico dopo quindi nel contesto delle forze la 3 è questa questa è la condizione 3 questo è il linguaggio delle derivate e nel linguaggio degli integrali presi due punti oppure facciamo così oppure presi due punti qualsiasi a e b e l'integrale il linguaggio delle derivate da a a b di una forza conservativa è uguale a u a meno u b perchè i fisici introducono questo segno meno questo è un f d'accordo? questo è cosa succede se è un campo di forze? e la matematica e questo dobbiamo capirlo vi ho anticipato stamattina eh? nel caso unidimensionale avevamo che f era meno la derivata di u rispetto a x e qua avevamo che la u per esempio la... l'integrale di f pensata alla posizione di x di x da x1 a x2 era u del punto 1 meno u del punto 2 questa era la lezione di stamattina vedete che questa è una generalizzazione non è più un'integrale ordinario ma è un'integrale così linea questo è lungo qualsiasi curva perchè è conservativo quindi qualsiasi qualsiasi curva va bene facciamo una breve pausa che sono stanco e devo raccogliere le idee